Raccolta dell'orto di oggi. Un po' di pomodori, un po' di patate ho disotterrato perché ho voglia di farle fritte, sono con la buccia rossa e la polpa bianca, dei cedrioli che li avevo comprati lunghi e fini, invece sono diventati corti e tondi, però erano buoni e molto teni. Poi ho disotterrato un po' di carote che a dire la verità sembrano più barbabietole, ma sono agarate e sono anche dolcissime, dall'orto l'ho prese con tutte queste belle foglie che mi dispiace persino buttare, ma non so proprio come utilizzarle, altrimenti è una soddisfazione stasera, qualcosa si può fare per cena, aggiungendoci delle uova o della carne, un buono, mi sbizzaccio rirò un po' con le verdure appena colte, tutta una soddisfazione unica.